Ben trovati a Mattina Live, dunque il Green Pass ma anche la ripresa della economia con un particolare sguardo sulle piccole e medie imprese, dunque questi i temi sul tavolo del governo ma anche degli enti locali e anche delle aziende. Di questo per l'appunto parleremo con il nostro ospite che vedo già in collegamento e in diretta, infatti con noi Carlo Robiglio, vicepresidente nazionale di Confindustria, nonché presidente nazionale della piccola industria. Presidente, buongiorno e soprattutto grazie per essere qui con noi oggi. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei, dunque il tema di questi giorni come anticipavo ai nostri telespettatori è il Green Pass che per l'appunto presidente sta facendo un po' discutere tanto, c'è secondo lei realmente il rischio che le aziende, che questa misura possa bloccare per l'appunto le piccole e medie imprese? Domanda assolutamente pertinente della preoccupazione che da più parti è stata sollevata, devo dire che va innanzitutto precisato che Confindustria era a favore dell'obbligo vaccinale, noi l'abbiamo chiesto a gran voce perché riteniamo che questo potesse essere il percorso per appunto aiutare soprattutto la ripresa economica e aiutare le nostre imprese a correre e a traguardare uno sviluppo di produzione che sembra oggi possibile appunto per le nostre imprese. Poi è passato ovviamente il tema del Green Pass che abbiamo condiviso e su questo noi siamo assolutamente fermi, decisi e schierati, non riteniamo che saranno particolari problemi per le nostre imprese, evidentemente tutte le nostre territoriali sono a disposizione degli associati per qualunque tipo di domande di supporto e quindi riteniamo che ci potranno essere iniziali magari preoccupazioni o problemi ma certamente l'imprenditore italiano saprà rispondere al meglio a queste esigenze. Le preoccupazioni diceva bene Presidente perché tante le manifestazioni a cui stiamo assistendo in questi giorni nel nostro paese tema che possiamo vivere per l'appunto un autunno caldo in merito a tale situazione? Direi di no, temo ovviamente la mancanza di buonsenso da parte di alcuni personaggi, ahimè anche magari del mondo politico, però non credo che ci sia questa preoccupazione. Sappiamo che c'è un dibattito, sappiamo che ci sono persone che non condividono l'obbligo del Green Pass, però io credo che tutti insieme e tutti insieme intendo come società italiana dobbiamo guardare appunto ai prossimi mesi con grande fiducia, speranza e soprattutto in una logica costruttiva e di produzione perché solamente facendo crescere la capacità delle nostre imprese di produrre e di esportare possiamo aiutare il nostro paese. Quindi io credo davvero che tutti insieme possiamo lavorare per appunto fare il meglio per l'Italia. Fare il meglio dell'Italia Presidente lei per l'appunto ha parlato anche del mondo politico e mi addentro anche in questa domanda che voglio formulare perché crede che chi come Salvini e Grillo a proposito dei tamponi gratuiti debbano farsene carico le aziende oppure chi? Mi è facile tornare un po' a rispondere come ho fatto per la prima domanda, noi si immagini eravamo a favore del vaccino obbligatorio quindi riteniamo che tutti coloro che hanno deciso di non vaccinarsi in qualche modo debbano assumersene la responsabilità. La responsabilità vuole anche dire evidentemente pagarsi il tampone quindi non vedo quale obbligo dovrebbe stare in capo a un datore di lavoro il quale appunto ha tra mille sacrifici e difficoltà riaperto doverosamente e volontariamente anche la propria azienda per poter fare al meglio il suo lavoro. E' chiaro che oggi esiste quindi un obbligo di Green Pass e l'obbligo è in capo a tutti coloro che si sono o meno vaccinati. Senta Presidente, non solo la pandemia ma anche molte volte le calamità colpiscono le piccole e medie imprese e a proposito vogliamo ricordare al nostro pubblico che ci segue da casa che lo scorso 14 ottobre è stato siglato a Benevento presso il pastificio Rummo un rinnovo del protocollo tra Confindustria e Protezione Civile per l'appunto a sostegno di tutte le imprese che sono state colpite da alcune calamità naturali o per l'appunto dalla pandemia. Vogliamo essere un po' più precisi e dettagliati, che cosa prevede tale documento? Presso il pastificio Rummo è stato un momento davvero molto importante questo protocollo firmato con la Protezione Civile perché in qualche modo è il rinnovo di un impegno. Un impegno che vede le imprese come attori sociali aver compreso al meglio il proprio ruolo che non è solo ruolo della produzione, è anche ruolo appunto della presenza sui territori nella difesa dei territori stessi. Questo accordo ha come base gli aspetti della cosiddetta prevenzione, cioè la cultura della prevenzione. Noi vogliamo come Confindustria, devo dire grazie alla partnership con la Protezione Civile, vogliamo sviluppare al meglio una cultura della prevenzione, una cultura appunto che porterà gli imprenditori a evitare appunto di esporsi in maniera inconsapevole a rischi che ci sono nel nostro paese, perché sappiamo tutti come l'Italia sia un paese fragile ed esposto appunto a rischi ambientali e quindi riteniamo sia opportuno rendere l'imprenditore consapevole di questi rischi e prepararsi al meglio per rendere la propria impresa e la propria attività resiliente. Presidente, ho utilizzato un termine adatto, fragile, ecco l'Italia è un paese fragile, ma per l'appunto le aziende che ve ne fanno parte sono fragile, soprattutto le piccole e medie imprese e quindi c'è evidentemente la necessità di sostenere, di supportare, di aiutare le imprese e a contempo anche il territorio, soprattutto se parliamo dei più piccoli o addirittura di chi opera un po' fuori dal centro e quindi per l'appunto più fragili. Come aiutare quindi in questo modo quelle piccole imprese che hanno subito l'emergenza pandemica? Questo è sicuramente uno degli impegni di Confindustria che si è estrinsecato in questi anni anche tramite il programma gestione emergenze, cioè noi cerchiamo di stare vicini all'imprenditore nei momenti sia, come abbiamo detto, che definiamo di cultura di impresa, cioè di prendere consapevolezza dei rischi per rispondere in un momento esante, quindi prepararsi a qualsiasi tipo di calamità, ma soprattutto vogliamo stare vicini agli imprenditori che sono stati colpiti da questi effetti negativi. E questo lo facciamo attraverso innanzitutto un programma che è il programma gestione emergenze, che ci ha visto in campo in questi anni in diversi momenti difficili per il nostro paese, e supportiamo imprese e territori in tutte quelle che sono le necessità di ogni tipologia, per portare ciò che serve, dove serve e quando serve, soprattutto nei territori colpiti appunto dai venti calamituosi. Senta Presidente, mi permetta anche quest'altra domanda, perché facendo proprio un'analisi del nostro tessuto economico e quindi delle piccole e medie imprese, notiamo che l'Italia è un paese che cresce più del previsto all'interno del G7, possiamo quindi, secondo lei, parlare di effetto Draghi? Direi che possiamo parlare di un effetto Italia, il nostro paese è molto complesso, è molto però bello ed è anche estremamente interessante, direi, da studiare. Nei secoli abbiamo sempre dimostrato come nei momenti più difficili abbiamo poi saputo tirar fuori il meglio di noi stessi. Ritengo senz'altro che l'effetto Draghi, come è stato definito, sia un effetto reale, soprattutto nei termini di dare tranquillità, di vedere il buon senso al governo, di vedere finalmente una situazione che permette, parlo delle imprese in quanto rappresentante della piccola impresa, che permette alle imprese di guardare il futuro nella logica del lavoro, della produzione, del merito, dell'impegno per fare al meglio il proprio lavoro nell'interesse soprattutto del paese. Quindi io penso davvero che si stia aprendo un'importante stagione, un'importante stagione di opportunità, di sfide complesse, ma che ci vedono nella capacità di competere sui mercati internazionali e globali. Quindi sono e siamo assolutamente fiduciosi e siamo certi che anche grazie all'effetto Draghi si potrà moltiplicare e far crescere in maniera esponenziale l'effetto Italia. Far crescere l'effetto Italia all'interno dell'Europa, Presidente, le chiedo a questo punto che ruolo rivestono le piccole imprese, perché il nostro tessuto economico italiano si sostiene e si basa soprattutto sulle piccole imprese. Quindi le stesse che ruolo hanno e che apporto danno al sistema produttivo economico? Le piccole imprese sono la vera spina dorsale del paese. È solo tramite le piccole imprese che possiamo pensare di avere uno sviluppo, di avere una capacità di portare il paese fuori dalle sacche della difficile situazione che ha connotato gli ultimi anni. Quindi siamo certi che grazie all'impresa, grazie alla piccola, alla media impresa, che si possono creare quelle precondizioni necessarie al riscatto dell'Italia. Siamo anche altresi certi che in questa logica le filiere, le grandi filiere, che sono quelle che poi creano il valore, saranno in grado di far sì che anche la piccola impresa possa trasmettere in un'ottica di open innovation capacità di crescita alla grande, ma soprattutto la grande impresa possa trasmettere alle piccole che fanno parte della sua filiera competenze, valori, conoscenze, processi per far sì che le piccole imprese crescano sempre di più. Facendo crescere le piccole imprese potremmo aumentare la competitività del paese, soprattutto potremmo aumentare l'export e siamo certi che queste leve faranno sì che appunto creeranno maggiore valore per il paese stesso. Beh, una sfida ambiziosa per il nostro bel paese, intanto io ringrazio Carlo Lobiglio, Vicepresidente nazionale di Confindustria, nonché Presidente nazionale della piccola industria, per essere stato qui con noi, grazie di cuore, io l'aspetto presso ai nostri studi televisivi di Mattina Live. Grazie mille, grazie a voi, sarà un piacere venire presso i vostri studi, quindi come suol dirsi alla prossima e grazie ancora. Grazie per essere stati con noi con Mattina Live. Grazie a tutti.